Musica Salve ragazzi e bentrovati su Radio Smeraldo Qualche giorno fa abbiamo pubblicato un sondaggio sul nostro account di Instagram per farvi scegliere chi tra Irama e Alessio Bernabèi fosse il preferito del nostro pubblico il più votato è stato Irama ed ora siamo qui per parlare un po' di lui Filippo Maria Fanti, vero nome di Irama, nasce a Carrara il 20 dicembre del 1995 cresce a Monza e dichiara di essersi interessato fin da bambino alla musica di Francesco Guccini e Fabrizio De Andrè per poi avvicinarsi alla musica hip hop la sua musica è infatti un insieme di diversi generi il suo nome d'arte non è solo l'anagramma del suo secondo nome ma ha anche un significato infatti Irama vuol dire ritmo in malese nel 2014 collabora con Valerio Sgargi incidendo ben tre singoli amore mio, per te, ed è andata così mentre nel 2015 collabora con Benji e Fede alla scrittura del singolo fino a farmi male il 27 novembre dello stesso anno con il brano Cosa resterà risulta fra gli otto vincitori dell'ottava edizione di Sanremo Giovani che gli consente l'ammissione di diritto al 66esimo festival di Sanremo nella categoria 9 proposte si classificherà alla fine settimo dopo aver perso la sfida eliminatoria contro Ermal Meta con Odio le favole a discapito però del piazzamento Cosa resterà raggiunge la centesima posizione della top singoli ed anticipa il suo primo album intitolato semplicemente Irama il 27 maggio dello stesso anno esce Tornerai da me secondo estratto dell'album singolo che gli vale la partecipazione al summer festival e a battiti live dopo un periodo di silenzio il 16 giugno del 2017 esce il singolo mi drogherò si registrano nello stesso anno due eventi importanti l'addio di Rama alla Warner Music e la partecipazione alla 17esima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi riuscendo ad accedere alla fase serale della trasmissione televisiva nel corso della partecipazione ha inciso alcuni brani inediti come Che vuoi che sia? Che ne sai? Un respiro Voglio solo te e Un giorno in più alla fine della competizione artistica il cantante si è classificato primo vincendo inoltre il premio Radio 105 e ottenendo così la possibilità di rinnovare nuovamente un contratto discografico con la Warner Music si presenta all'estate italiana del 2018 con il singolo Nera estratto dal suo nuovo IP Plume che con 25.000 copie vendute diventa disco d'oro Ovviamente Radio Smeraldo auspica per i Rama una carriera ricca di successo e che la vita continui sempre a sorridergli Qui dal vostro Giacomo è tutto io vi ricordo come sempre di continuare a seguirci su tutti i social un saluto a tutti voi buon proseguimento di estate a tutti quanti e ciao ciao Grazie a tutti